Sono senz'altro positivi, siamo partiti due anni fa, abbiamo ricostruito questa società da zero, io Bergamin, Salot, il mio socio Beccaro Moreno e Vante Toggetto, poi in un secondo tempo è arrivato Massimo Poliero e quindi come ho detto in quel periodo non c'erano neanche l'acqua e i palloni, quindi siamo ripartiti e siamo partiti con tanto entusiasmo, con tanta buona volontà, con tanto affetto da parte della città, della tifoseria, dell'amministrazione e anche della stampa e abbiamo fatto un campionato importante, abbiamo scelto un grande allenatore, abbiamo scelto un gran direttore sportivo e abbiamo fatto una cavalcata, escluso quel periodo di gennaio dopo la sconfitta con l'Alto Vicentino e Amogliano, dove magari già cominciavamo a essere messi in discussione tutti quanti, poi alla fine ci siamo subito ripresi e abbiamo vinto il campionato. Poi siamo passati tra i professionismi, il professionismo è un'altra cosa, il professionismo è un'altra categoria e qui forse abbiamo pagato un po' questa nostra inesperienza da parte mia, da parte di Bergamin, da parte della proprietà e per poi arrivare addirittura a giocarci i play-off fino alla partita del Zan Arminia. Ecco, quindi che dire, siamo più che soddisfatti, io Bergamin e gli altri soci, abbiamo fatto, siamo passati tra i professionisti dopo il primo anno e siamo arrivati quinti in secondo. Diciamo che è in vantaggio Zammuner? Diciamo che è in vantaggio Zammuner, Zammuner in questo momento sta facendo i play-off con il Pordenone, io penso quindi per rispetto del Presidente Loviso e della città di Pordenone, più zitti si sta meglio, è una pilona, non si può dire che ha fatto male, anzi assolutamente, dico solo che c'è un, come di solito succede per evitare errori del passato, il direttore sportivo una volta che sarà scelto sarà il direttore sportivo a colloquiare con Pellone e di conseguenza se in linea c'è feeling sarà Pellone, se non c'è feeling sarà un altro e si prenderà le sue responsabilità, noi come proprietà non faremo altro che avvallare pienamente le decisioni del direttore sportivo.